Questo evento ha per titolo Rischi ambientali e prevenzione. È articolato in due fasi di visita. La prima riguarda una mostra dedicata al rischio sismico, avente per titolo terremoti e prevenzione, ma come sottotitolo una mostra per capire che è possibile fare prevenzione. La seconda parte riguarda invece la visione di video sul rischio alluvione, incendio e frane. Queste attività hanno come obiettivo quello di sensibilizzare cittadinanza, volontari, studenti, chiunque possa essere interessato dalle problematiche di rischio ambientale e comunque nel territorio italiano siamo un po' tutti coinvolti in queste situazioni. Anche i modellini devono servire per capire alcuni concetti, alcuni concetti che sono di fatto esemplificati con applicazioni reali presenti sul territorio toscano, permanentemente, ma anche nella regione Marche, che riguardano appunto, in questo caso, nel caso della mostra, la sismica e nel caso degli altri rischi ovviamente si fa riferimento a tutto il territorio nazionale italiano. Questa mostra effettivamente ha avuto una buona partecipazione da parte di tanti volontari, da parte di tanti studenti di scuole liceali che, fra l'altro, avevano seguito altre attività di formazione sulla gestione delle problematiche dei rischi sismico, alluvioni, frane e d'incendio durante l'anno scolastico e pensiamo di replicare proprio a fronte di questo successo anche sotto altra forma, diciamo, proponendo sempre le stesse problematiche ma cercando di far sempre rimanere alto l'interesse per intervenire quanto più possibile a qualunque livello di territorio e di singoli edifici o di infrastrutture.